Quest'anno il caso vuole che cada anche il settantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale. L'accostamento fra le due date, scoppio della prima, fine della seconda, richiama quello schema interpretativo che è stato un momento fa ricordato in sede di introduzione, quello schema interpretativo che vede nei due conflitti mondiali un'unica trama, la trama appunto di una guerra dei trent'anni che comincia nell'estate del 14 Sarajevo e finisce nell'agosto del 45 Hiroshima e Nagasaki, per sintetizzare al massimo. Una lunga guerra appunto con in mezzo un lungo e agitato interludio. Ora, questo schema dell'unica guerra per me è discutibile, per i motivi che vi dirò fra poco, ma è innegabile che i punti di contatto e gli elementi di continuità fra le due guerre mondiali ci siano e siano evidenti, saltano subito agli occhi. Allora, entrambe le guerre mondiali nascono come scontro fra potenze europee, scontro che poi si allarga e diventa uno scontro planetario mondiale appunto, in entrambi i casi. Entrambe le guerre mondiali hanno origine da uno stesso motivo di fondo. Questo motivo di fondo è il fatto che la Germania, prima la Germania imperiale, poi la Germania nazionalsocialista, tenta di imporre al resto dell'Europa una egemonia. Una egemonia in forme diverse, naturalmente, nel caso della Germania prenazista e della Germania nazista. Comunque, un'egemonia a cui si sente quasi irresistibilmente chiamata dalla sua storia, dalla sua posizione geografica centrale in mezzo al continente, dalla demografia, dal potenziale industriale, dalle infrastrutture, dalla stessa cultura. Ecco, questo è il tentativo che tiene insieme, diciamo così, le due guerre mondiali, che è anche una fase precedente della storia europea. Questo tentativo da un lato, dall'altro il tentativo delle altre potenze europee, Francia, Gran Bretagna e Russia, poi Unione Sovietica, di impedire tutto questo, di bloccare questo tentativo egemonico. Questo è detto in termini molto schematici, naturalmente, però che ci sia questo motivo comune è, penso, abbastanza evidente. Dicevo, il tentativo delle potenze europee di bloccare le aspirazioni egemoniche della Germania con l'aiuto, che arriva in un secondo tempo, ma in entrambi i casi si rivela decisivo, in entrambi i casi arriva in un secondo tempo, in entrambi i casi è decisivo, con l'aiuto degli Stati Uniti d'America. Questo è lo schema e, tutto sommato, appunto, è abbastanza simile nel caso delle due guerre mondiali e è abbastanza facile notare che anche i protagonisti sono gli stessi, sono sempre quelli. Sono quelle poche grandi potenze europee ed extraeuropee, cioè Stati Uniti e Giappone, che si affrontano in entrambe le guerre, salvo l'Austria-Ungheria che dal 1918 cessa di esistere e non ci sarà più, neanche quel che ne rimane, poi quello che ne rimane sarà inglobato nel Reich tedesco, nel Terzo Reich. Ma, a parte il caso dell'Austria-Ungheria, le potenze che si combattono sono sempre le stesse e anche gli schieramenti si somigliano molto alla prima e nella seconda guerra mondiale. Le varianti sono importanti, ma limitate, cioè uno è il Giappone, che nella prima guerra mondiale entra a fianco dell'intesa della Francia, della Gran Bretagna e della Russia, mentre, come sappiamo, entrerà nella seconda guerra mondiale fragorosamente schierandosi dalla parte invece delle potenze del cosiddetto asse. L'altra variante è l'Italia. L'Italia, in entrambi i casi, entra con una decina di mesi di ritardo, ma nel 15 entra dalla parte, per fortuna, diciamo, dalla parte vincente e nel giugno del 40 entra invece, diciamo, dalla parte sbagliata. Ecco, queste sono le varianti. Poi c'è un'altra variante che è costituita dalla Russia, cioè dall'Unione Sovietica, erede della Russia imperiale. Nel 1939, quando la guerra comincia, l'Unione Sovietica è in una posizione di fiancheggiatore, se non proprio di alleato, della Germania nazionalsocialista. Dopo il giugno del 1941, cioè attacco tedesco all'Unione Sovietica, invece si ritrova nell'altro schieramento, che somiglia moltissimo allo schieramento, alla vecchia intesa della prima guerra mondiale. Gran Bretagna, Russia e Francia, la quale Francia in realtà nel 40 e nel giugno del 40 è stata fatta fuori, praticamente eliminata dalla guerra, ma miracolosamente viene riammessa al tavolo dei vincitori, per tante ragioni che sarebbe lungo spiegare. Per cui alla fine della prima guerra mondiale abbiamo anche in questo caso quattro grandi che si siedono al tavolo dei decisori, in realtà i veri decisori sono solo due. Abbiamo quattro grandi, che non sempre sono grandi, come dopo la fine della prima guerra mondiale. che cosa cambia? Cambia che l'Italia non c'è più, mentre alla fine della prima guerra mondiale stava incredibilmente fra i quattro grandi e alla fine della seconda invece sta fra gli sconfitti e al tavolo dei vincitori siede l'Unione Sovietica in una posizione anche di grande forza. Ecco, quindi stessi protagonisti, quasi gli stessi vincitori, stessa causa scatenante, eppure appunto la chiave interpretativa della guerra dei trent'anni secondo me non funziona a guardar bene, a molti punti deboli. Allora, primo punto è, diciamo così, di prospettiva. Se noi adottiamo questa chiave interpretativa dell'unico blocco, diciamo, il risultato è che rischiamo di schiacciare, di trascurare, di appiattire tutto quello che c'è in mezzo, tutto il ventennio, l'agitato ventennio, che sta fra le due guerre mondiali e di considerarlo come una specie di marcia fatale verso l'esito catastrofico della seconda guerra mondiale. E le cose sono un po' diverse, sono un po' più complicate. Non si può fare, cosa che si fa molto spesso nel discorso così, anche divulgativo, c'è il primo dopoguerra, c'è la conferenza di Versailles, ci sono gli errori dei vincitori nei confronti della Germania, i tedeschi si arrabbiano, quindi arriva Hitler e scoppia la seconda guerra mondiale. No, c'è dell'altro in mezzo, in particolare c'è un quinquennio, il quinquennio 1924-1929, in cui sembra che le cose vadano diversamente. Gli anni della stabilizzazione, della distensione internazionale, i piani per aiutare la Germania a pagare le riparazioni, l'ammissione della Germania nella società delle nazioni, e poi l'esperienza della Repubblica di Weimar, che tutti, i più almeno, considerano come un breve preludio all'avvento del nazismo, invece non è così. La Repubblica di Weimar è durata 15 anni, 3 anni più del regime nazista, che in tempo di pace, per quanto possa sembrare strano, ha durato solo 6 anni, periodo brevissimo in realtà. Comunque, la questione quindi è complicata. Perché questa fase di distensione, di relativa stabilizzazione, a un certo punto si interrompe? Perché ottobre 1929 arriva niente meno che la grande crisi, che cancella le basi della cooperazione internazionale, che mina la fiducia stessa nella democrazia, che segna un tornante assolutamente essenziale. Anche quello è un evento periodizzante, c'è un prima e un dopo la grande crisi, che erroneamente chiamiamo la grande crisi del 29. No, il 29 ci fu solo il crollo alla borsa di Wall Street, la crisi durò per tutti gli anni 30. E fu un evento anch'esso periodizzante, una specie di spartiacque, che noi, se adottiamo il punto di vista dell'unica guerra dei 30 anni, rischiamo di smarrire, rischiamo di non valutare nella sua importanza. Ecco, questo è secondo me uno dei punti deboli. Poi c'è un altro punto importante, che differenzia proprio ab origine le due guerre mondiali, è proprio appunto il nodo delle origini, o se preferite la questione della responsabilità. Ecco, se noi parliamo di prima guerra mondiale, e affrontiamo il tema della responsabilità, affrontiamo un tema molto discusso, su cui si sono confrontati e scontrati tanti studiosi. Quello che però si deve dire è che oggi il tema è ancora un tema aperto, è un tema su cui ancora si discute. La tesi della responsabilità esclusiva, o quasi esclusiva, della Germania e del suo alleato, l'Austria-Ungheria, oggi già fu contestata subito all'inizio degli anni venti, ma oggi diciamo che non è fatta propria da molti. E la tesi che fu invece, come dire, imposta dai vincitori, che la vollero addirittura scritta nei trattati. I tedeschi dovessero firmare un trattato in cui si diceva i tedeschi sono gli unici responsabili della prima guerra mondiale e il caso era un criminale di guerra, più o meno questo dovettero fare i tedeschi. Questa tesi, che appunto era una tesi più politica che storiografica, oggi non viene largamente condivisa e appunto si tende a distribuire, almeno in parte, la responsabilità, pur riconoscendosi in generale una qualche speciale responsabilità della Germania. Bene, per la seconda guerra mondiale ovviamente le cose stanno diversamente. C'è un responsabile, è la Germania, e personalmente Adolf Hitler e questa responsabilità, questa responsabilità schiacciante, non può essere messa in discussione, anche se possono esserci delle interpretazioni diverse, che mettono in rilievo l'uno o l'altro fattore, questa responsabilità sta lì e nessuno la può rimuovere. Così, per fare un esempio di come Hitler poneva la questione o di come trattava la questione appunto della possibile guerra, faccio solo un piccolo inciso, per ricordare appunto il caso Sbelli, il presunto caso Sbelli a cui nessuno credette in realtà, della seconda guerra mondiale. Il caso Sbelli della prima era stata, lui era stato l'ultimatum austriaco alla Serbia e a sua volta derivato dall'attentato di Sarajevo, un evento reale, tragico, che aveva colpito la famiglia imperiale austriana. Due morti. Quando invece volle fabbricarsi un caso Sbelli, Hitler non trovò di meglio che mettere in piedi una turpe messa in scena organizzando un finto attacco di finti soldati polacchi a una stazione radio vicino al confine con la Polonia, in cui tra l'altro morirono due ignari soldati tedeschi. Questo attacco servì poi da giustificazione per l'immediato attacco alla Polonia che era già tutto pronto naturalmente. Ecco, questo per definire appunto i metodi a cui tra l'altro a questa messa in scena non credette nessuno naturalmente, però insomma questo era il metodo. Quindi la responsabilità è quella si possono riempire volumi elencando appunto le prove di quella responsabilità. Responsabilità ci fu anche da parte delle potenze dette democratiche, delle potenze che avrebbero dovuto opporsi, che si opporranno a Hitler. Ma attenzione, a quelle potenze, Francia e Gran Bretagna in particolare, viene rimproverato non certo di aver provocato la guerra, ma di non averla voluta fare prima. e quindi l'appeasement, e quindi la vergogna di Monaco, l'abbandono della Cecoslovacchia, eccetera, eccetera. Però, capite che sono due forme di responsabilità molto diverse. Sulla questione poi delle responsabilità delle potenze europee nel non fare subito la guerra, non farla prima, dire la verità, l'anno giusto sarebbe stato non il 38, ma il 36, quando Hitler non l'aveva ancora riarmato. Ma comunque, anche lì ci sarebbe da discutere, nel senso che, sì, certo, fu un tradimento, fu una pessima figura da parte delle due democrazie dell'Europa occidentale, ma mettetevi un attimo nei panni degli statisti di Chamberlain e di Daladier, che entrambi avevano combattuto la Prima Guerra Mondiale e che dovevano prendersi la responsabilità di portare il loro paese in un'altra guerra che si annunciava e poi sarebbe stata ancora più terribile a vent'anni di distanza. Insomma, non era una decisione da prendere alla leggera. Comunque, chiusa la parentesi, il ruolo determinante appunto di Hitler, dei suoi piani di conquista, delle sue ossessioni ideologiche nello scoppio e poi anche nella conduzione della guerra. E questo ci porta a un altro punto secondo me importante. È sbagliato. Come hanno fatto alcuni storici, fra cui Alan J.P. Taylor che tra l'altro non a caso è anche uno dei principali fautori della tesi della guerra dei trent'anni, dell'unica guerra dei trent'anni, di cui è sbagliato ricondurre la la strategia itleriana, le iniziative itleriane alle aspirazioni nazionali tedesche, a quelle aspirazioni nazionali che erano in realtà comuni a tutti i tedeschi di qualsiasi parte politica, quali erano? Cancellare Versailles, potersi riarmare, poter riacquistare un ruolo di prestigio in Europa, al limite riunire tutti i tedeschi in un solo stato, in fondo il principio di nazionalità che era stato tanto sbandierato avrebbe imposto che gli austriaci per esempio che lo desideravano si unissero ai tedeschi ma questo i trattati lo impedivano allora ecco questa interpretazione diciamo continuista che cosa dice? Non nega la responsabilità di Hitler ma collega le sue strategie a una tradizionale politica tedesca in particolare a delle aspirazioni nazionali che erano comuni a quasi tutti i tedeschi e a una logica che era quella della logica delle vecchie potenze europee che invece era estranea agli orizzonti di Hitler in cui i piani di Hitler non rientravano non erano riducibili è un'altra cosa è un'altra cosa così come appunto è sbagliato secondo me stabilire una linea di continuità fra la Germania Bismarckiana la Germania Guglielmina e la Germania nazista anche questo fu un interpretazione storica poi finita anche in politica quando si trattò di decidere cosa fare della Germania sconfitta c'era chi la voleva fare a pezzi c'era chi voleva ridurla di nuovo allo stato agricolo cioè a un paese con un'economia silvopastorale si diceva e anche personaggi importanti fecero questi progetti no ecco dicevo è sbagliato stabilire una linea di continuità troppo forte troppo stretta fra la vecchia Germania imperiale e la Germania e la Germania nazista c'era nelle politiche italiane in particolare nella sua utopia razziale che fu sempre centrale nel suo modo di pensare e di agire c'era un sovrappiù di ideologia di ideologia esclusiva e aggressiva di follia visionaria e criminale diciamo pure perché anche di questo si tratta c'era questo questo sovrappiù appunto il che non significa che Hitler non fosse capace di decisioni razionali anzi all'inizio della guerra le azzeccò praticamente tutte e che non fosse capace di graduare i suoi obiettivi il problema era che nel suo progetto nella sua agenda non c'era posto per quelle soluzioni mediane intermedie per quegli accomodamenti che invece sono pane quotidiano per la politica per la diplomazia tradizionale anche al servizio di un progetto di potenza questo questa estraneità questa diversità diciamo così irriducibile di Hitler e della sua politica emerge chiaramente quando nel giugno del 41 Hitler decide di attaccare l'Unione Sovietica mentre già domina nel resto d'Europa con l'unica eccezione insulare della Gran Bretagna molti hanno considerato questo attacco l'errore capitale di Hitler ma non si può dire questo perché quello era il suo vero scopo a quello lui mirava da sempre quello voleva fare era il suo obiettivo strategico e poco mancò che non lo raggiungesse allora nel 41 ecco l'impostazione data alla guerra da Hitler un'impostazione ripeto follemente coerentemente ideologica un'impostazione da guerra da guerra di religione o da guerra civile se volete contribuisce naturalmente a accrescere il tasso ideologico e anche la spietatezza della guerra diventa una guerra non solo fra stati ma fra diverse concezioni del mondo e le guerre fra diverse concezioni del mondo sono sempre più spietate più crudeli delle guerre delle vecchie monarchie tanto per capirci quando si faceva la guerra poi ci si siedeva al tavolo ci si rimetteva d'accordo e poi magari si faceva un'altra guerra un po' di tempo dopo in genere si risolveva tutto in una grande battaglia no ecco qui siamo siamo su un altro terreno siamo nella guerra nella guerra fra avversari che non si riconoscono mai che non possono trattare fra loro che si negano e questo è vero per Hitler naturalmente ma per contagio anche per l'altra parte non a caso dal 41 in poi si parla di guerra antifascista di grande coalizione antifascista cioè si introduce un forte elemento ideologico ecco tutto questo non era assolutamente una novità cioè qualcosa del genere era accaduto anche con la prima guerra mondiale soprattutto alla fine e anche lì si erano sperimentate le tecniche di demonizzazione del nemico di disumanizzazione del nemico anche lì anche in quel caso appunto era avvenuto questo informe magari meno esasperate ecco meno meno estreme di quanto non accadrà invece nella seconda guerra mondiale e per questo tenendo presente anche questo elemento un altro storico famoso Ernst Nolte in un libro del 1986 che si chiamava nazionalsocialismo europeo e bolshevismo con un'altra formula che ebbe un certo successo quella di guerra civile europea intendendo appunto per guerra civile quella guerra in cui non si concepisce un compromesso con l'avversario ma si mira alla distruzione dell'avversario con un negoziato ecco anche in questo caso la guerra civile europea se così vogliamo chiamarla può essere una definizione forviante perché è forviante intanto perché non si trattava di una guerra europea soprattutto dal 7 dicembre del 1941 per l'arbor la guerra diventa mondiale in una misura in una forma come non era mai stata neanche al tempo della guerra 14-18 quindi europea si fa per dire la guerra europea è parte appunto è parte di una di una guerra di una guerra mondiale una guerra che coinvolge tutti i continenti e anche la maggior parte degli stati indipendenti che c'erano allora che erano non tantissimi erano poco più di una cinquantina adesso sono più di 200 gli stati indipendenti bene la maggioranza degli stati indipendenti fu coinvolta quindi non fu solo una guerra europea a partire almeno dal dicembre del 1941 ecco ma quella definizione guerra civile europea può aiutarci come dicevo a cogliere il il salto qualitativo la peculiarità della seconda guerra mondiale il salto che segna sul piano della violenza della violenza indiscriminata della caduta di ogni limite di ogni remora ispirata dettata da una qualche sia pure vago elementare rispetto del valore della vita umana ecco questo rispetto noi non lo troveremo più nel corso della seconda guerra mondiale ora intendiamoci sempre per restare sul paragone sul parallelo tra le due guerre anche la prima guerra mondiale era stata un massacro senza precedenti per durata e per intensità un solo dato così indicativo nel primo giorno ripeto il primo giorno primo luglio 1916 della battaglia della Somme una delle più sanguinose combattute sul fronte occidentale ci furono 20.000 morti nel corpo di spedizione britannico 20.000 morti in un giorno su un fronte di qualche decina di chilometri questo per dare idea idea di quanto cruenta e traumatica fosse stata appunto anche l'esperienza della prima guerra mondiale non solo la grande guerra creò a sue fazioni allo spettacolo della morte di massa provocò consentì favorì stermini anche di civili intendiamoci più grave di tutti lo stermino degli armeni nelle zone caucasiche della della Turchia e non solo che provocò un numero mai veramente stabilito ma siamo intorno al milione di morti poi si discute se sia stato genocidio o non genocidio tecnicamente parlando ma insomma furono sempre un milione di morti questo durante la prima guerra mondiale e dentro la prima guerra mondiale poi anche a guerra finita ci furono pulizie etniche scambi forzati di popolazione esodi di massa insomma di tutto e di più ma quando si fanno delle stime relative al numero dei caduti nella prima guerra mondiale che furono un numero enorme intorno ai 10 milioni anche qua le stime cambiano perché poi è difficile fare i conti esattamente comunque fra gli 8 e mezzo e i 12 milioni diciamo 10 per fare cifra tonda ecco di questi 10 milioni la stragrande maggioranza è di militari e di uomini indivisa e questo perché la grande guerra almeno sul fronte occidentale fu tendenzialmente una guerra statica una guerra in cui ci si confrontava sempre nella stessa fascia di territorio non così nell'Europa orientale dove invece ci furono avanzate ritirate e anche e anche gravissimi disagi per la popolazione civile ma sul fronte occidentale la prima guerra mondiale fu una guerra sanguinosa cruenta ma statica i nuovi mezzi bellici che sarebbero stati protagonisti della guerra successive in particolare della seconda guerra mondiale a cominciare dal carro armato i mezzi motorizzati in generale e l'aviazione bene quando c'è la prima guerra mondiale sono ancora all'inizio sono agli esordi non vengono capiti non vengono capite le loro potenzialità dai militari e risulteranno largamente sottoutilizzati anche per questo ripeto la prima guerra mondiale è una guerra ferma statica ecco quando invece andiamo a guardare i morti della seconda guerra mondiale e qui il numero è assolutamente impressionante si parla di 60 milioni circa di morti 60 milioni è la popolazione dell'Italia intera o della Gran Bretagna oggi ecco quando si parla di quei 60 milioni si parla prevalentemente anche se certo non esclusivamente di morti civili compresi anziani donne bambini qualcuno ha calcolato non so bene con quanto fondamento lo dico così a titolo di curiosità più che altro che in un certo periodo della guerra quando si combatteva la battaglia d'Inghilterra sui cieli della manica eccetera in quel periodo e quando gli altri fronti tacevano quasi fermi salvo in parte quello nord africano ecco in quel periodo era più probabile che un militare al fronte ricevesse una comunicazione in cui si diceva che la moglie era morte in un bombardamento piuttosto che l'inverso cioè che una donna ricevesse la notizia che il marito era morto in battaglia era più facile morire in un bombardamento in una città inglese in quel periodo che non su un fronte di battaglia appunto in quella in quella fase ecco questo è però un po' un caso limite così come un caso limite è un altro un altro dato che pure è indicativo vi ho citato prima i 20.000 morti in un giorno della battaglia della Somma 28.000 morti cioè pochi di più fu il totale dei morti tedeschi in tutta la campagna di Francia che durò un mese e mezzo anche lì lì però ci fu anche una come dire un collasso una catastrofe strategica militare degli altri degli avversari cioè dei francesi però appunto tendenzialmente la guerra era meno costosa in termini di vite umane per i combattenti che non per per i civili attenzione anche fra i combattenti ci fu una mortalità elevatissima ma mediamente inferiore a quella della prima guerra mondiale che sui combattenti era stata appunto invece molto molto alta vi darò un po' un po' di numeri dicevo comunque sì la mortalità molto molto elevata ma mediamente inferiore a quella della prima guerra mondiale in relazione al tempo e al numero dei militari mobilitati ecco questo è vero in generale salvo che su un fronte sul fronte russo sul fronte russo invece la mortalità fu elevatissima fu elevatissima anche perché entrambi i contendenti impostarono subito la guerra come guerra di sterminio i tedeschi in coerenza con il loro progetto di fare di tutto l'est europeo una gigantesca colonia agricola al servizio del grande Rai e anche al loro progetto di sterminare di cancellare dalla faccia della terra per quanto possibile due categorie gli ebrei e i comunisti aggiungiamo gli slavi e capite anche perché Hitler a questo punto ci teneva tanto a soggiogare a conquistare la Russia i sovietici rispondono con altrettanta feroce bisogna dire non solo ai danni dei nemici ma anche a scapito della loro popolazione dei loro soldati i quali vengono mandati avanti a ondate siccome poi quella risorsa la risorsa umana abbondava abbondava fino alla fine della guerra alla fine della guerra c'è un deficit di popolazione maschile spaventoso ma insomma che cosa facevano i generali sovietici mandavano a ondate i i fanti a schiantarsi contro il fuoco avversario né più nemmeno come avveniva di regola nella prima guerra mondiale addirittura c'è una battuta del generale Zhukov il più grande condottiero dell'unione sovietica riferita da un colloquio con Eisenhower che spiegava come si fa a bonificare i campi minati e Zhukov dice ma la cosa più semplice è mandarci la fanteria non le unità scelte naturalmente no? ecco questa era la guerra che si combatteva che si combatteva sul fronte russo una guerra spaventosa che infatti provoca insomma morti nell'ordine delle decine di milioni avete capito bene per non parlare del trattamento dei prigionieri dall'una e dall'altra parte la maggior parte non tornarono proprio i russi che tornarono furono immediatamente spediti da Stalin in qualche gulag perché darsi ai prigionieri voleva dire essere traditori non si poteva essere prigionieri anche questo va detto i prigionieri sovietici furono un numero pazzesco credo 5 milioni qualcosa del genere molti di questi morirono naturalmente ma tornando ai civili questo numero così alto appunto delle vittime non indivisa si spiega in tanti modi si spiega con gli stenti trasferimenti forzati il lavoro coatto quasi 8 milioni di uomini e donne che lavorarono per il grande Reich parlo di non tedeschi naturalmente poi ovviamente i bombardamenti circa 700.000 morti in Germania 600.000 in Giappone furono le principali vittime dei bombardamenti in Germania e in Giappone e cifre molto alte anche per altri paesi compresa l'Italia ma poi in quei numeri non dobbiamo mai dimenticarlo ci stanno anche gli stermini programmati e attuati con metodi diciamo così industriali moderni scientifici anche perché erano gli unici che permettessero di raggiungere tali vette vette di appunto di abominio perché provate a uccidere un milione di persone con colpi di pistola alla nuca beh insomma non è detto che bastino le forze non è detto che chi deve fare queste operazioni regga poi nervosamente a una cosa di questo genere e quindi si inventano dei modi appunto tipici della società industriale e questa è la vicenda appunto è la vicenda della Shoah è la vicenda dell'olocausto la Shoah fu un crimine per molti aspetti unico incomparabile con gli altri che pure ce ne furono e furono numerosi ma attenzione per quanto unico si spiega si attua solo nel contesto di un'Europa dell'Europa in guerra di un'Europa in cui il valore della vita umana era stato completamente azzerato la stessa sensibilità nei confronti dei grandi massacri già attenuata dopo la prima guerra mondiale era completamente venuta meno e qui si potrebbe si potrebbe fare il solito caso una solita discussione che spesso si fa ma qual era la sensibilità per esempio rispetto allo sterminio degli ebrei nel resto del mondo anche nei paesi che combattevano contro Hitler c'è il grande dibattito perché non fu bombardata Auschwitz ora messa così la risposta è abbastanza facile perché se si fosse bombardati i campi si sarebbe semplicemente facilitato il lavoro degli sterminatori e poi la risposta era quella no la cosa da fare è vincere la guerra intanto bisogna vincere la guerra però calcolando i milioni di tonnellate di bombe che furono gettate sulla Germania spesso a casaccio ecco magari qualche linea ferroviaria forse poteva essere colpita e magari mirando appunto a quelle zone e a quelle linee forse quello che è certo però è che per nessuno fra i belligeranti capi militari e politici lo sterminio gli stermini di massa furono una priorità la priorità era quella di vincere la guerra il che aveva una sua logica anche però appunto ci si chiede se non c'entrasse anche una certa insensibilità un certo callo ecco per dire che durante la guerra durante una guerra punteggiata anzi tessuta di massacri indiscriminati appunto si sviluppava e solo così si spiegano appunto questi numeri pazzeschi impressionanti dei morti ve ne dico solo qualcuno anche per non per non tediarvi comunque e ricordo che sono numeri che si danno a titolo indicativo perché nei vari libri si leggono delle stime molto diverse a volte anche molto distanti ma capite anche il perché già è difficile calcolare i morti militari i morti civili la distinzione fra civili e militari per esempio i combattenti delle formazioni partigiane sono civili o sono militari i morti i tanti morti per malattie per denutrizione per infezioni setticemie sono morti attribuibili alla guerra e quanti insomma sono calcoli complicati però insomma vi do alcune cifre che insomma sono piuttosto impressionanti allora in testa alla classifica dei paesi colpiti da maggior numero di perdite c'è l'Unione Sovietica senz'altro siamo fra i 20 e i 25 milioni di morti subito dopo sapete chi viene io non me lo sarei mai aspettato viene la Cina la Cina che nella seconda guerra mondiale ha un ruolo marginale però si è dovuto subire otto anni perché è cominciato nel 37 di occupazione giapponese terribile terribile si ricordano i famosi stupri di Nanchino ma per ben otto anni la Cina viene occupata da un esercito di conquista che insomma fa le cose peggiori ecco diciamolo pure quindi i cinesi hanno quasi 15 milioni di morti secondo stime recenti che devo dire mi hanno mi hanno stupito poi poi vengono vengono i tedeschi 7 milioni di morti circa un po' meno del 10% della popolazione aveva una popolazione di circa 80 milioni di abitanti la Germania 7 milioni di morti 2 milioni e mezzo di morti giapponesi la guerra dei giapponesi dura meno tra l'altro ma il paese che ha le perdite maggiori in rapporto alla popolazione è la Polonia la Polonia ha 6 milioni di morti su una popolazione di circa 34 milioni di abitanti quindi fra un quinto e un sesto dell'intera popolazione anche queste sono cifre che fanno impressione fra i principali stati belligeranti quello che ha le perdite più lievi in relazione alla popolazione alle forze impegnate sono gli stati uniti d'America sono gli stati uniti l'Italia ne ha un pochino di più un pochino di più sul piano dei militari parecchi di più perché l'Italia ha un centinaio di migliaio di morti nei bombardamenti e gli stati uniti non hanno morti civili hanno solo morti militari in misura come vedete per carità 300.000 sono sempre una cifra pazzesca però in misura molto minore rispetto ad altri belligeranti e questo attenzione è un merito storico è una cosa di cui va reso merito agli stati uniti perché loro la guerra la facevano come avete visto forse ne ha salvato il soldato Ryan certo non risparmiando i mezzi la potenza di fuoco e anche un certo accanimento ma cercando di risparmiare i loro soldati e questo non è un merito da poco secondo me comunque 300.000 negli Stati Uniti 430.000 450.000 l'Italia però ripeto fra questi una buona quota erano vittime dei bombardamenti ecco questi i numeri e questi numeri ci spiegano perché quando noi pensiamo alla prima guerra mondiale se dobbiamo associarla a un'immagine l'immagine è quella di una trincea di un soldato che balza fuori dalla trincea se pensiamo alla seconda guerra mondiale a quale immagini pensiamo a una città bombardata a Dresda a Coventry o a un campo di concentramento o ancora più terribile a un campo di sterminio quelle sono le immagini tipiche della seconda guerra mondiale ecco mi resta da toccare un ultimo punto fra i tanti ovviamente che potrei affrontare ma come capite la seconda guerra mondiale è un evento di estrema vastità complessità e anche lunghezza dicevo un ultimo punto che però credo importante ecco l'uso della violenza indiscriminata contro i civili fu abbiamo appena detto un tratto caratteristico della seconda guerra mondiale ma non ebbe effetti risolutivi salvo in un caso vi dirò non ebbe effetti risolutivi sull'andamento della guerra non dico che non serviva a nulla ma insomma serviva a poco rispetto alle sorti della guerra mentre la guerra si combatteva gli inglesi britannici anzi dovrebbe dire non furono piegati dalle incursioni aere tedesche neanche dai razzi v2 alla fine della guerra nell'ultima fase della guerra i tedeschi resistettero stoicamente ai bombardamenti che come abbiamo visto fanno centinaia di migliaia di vittime e arrecano danni molto seri non irreparabili però perché attenzione questi bombardamenti poi alla fine erano come dire il contrario che chirurgici di giorno era troppo rischioso perché c'era la caccia avversaria che ti intercettava di notte era meno rischioso ma si sbagliava spesso obiettivo quindi questi bombardamenti strategici che furono indirizzati contro la Germania per un periodo estremamente lungo e con danni e vittime ingenti non piegarlo la resistenza dei tedeschi così come i bombardamenti tedeschi non avevano piegato la resistenza degli inglesi ovviamente lo sterminio degli ebrei non porta alcun giovamento alla campagna militare tedesca anzi sottrae energie forze preziose che avrebbero potuto essere impiegate su altri su altri fronti la guerra di sterminio condotta dai tedeschi in Europa orientale soprattutto in Russia in Russia e nei territori ex sovietici in Ucraina per esempio la speciale qualità tragica qualità di quella guerra impedisce ai tedeschi di sfruttare in parte lo faranno ma solo in parte le larghe sacche di scontento di opposizione di indipendentismo che c'erano nei paesi che erano stati sino allora sotto il tallone del regime sovietico certo se fai una guerra di sterminio diventa un po' difficile poi reclutare forze ne reclutarono ugualmente quasi 500.000 all'ordine di un generale russo il generale Vlasov non vi dico poi che fine fecero questi 500.000 insomma insomma ancora le stragi gli stupri di massa che i tedeschi fecero avanzando nel territorio tedesco al momento appunto dell'avanzata dell'armata rossa fino a Berlino anche qui parliamo di centinaia di migliaia se non di milioni resero più accanita e più efficace la resistenza dei tedeschi che in quello stesso periodo invece dall'altra parte a occidente praticamente smisero di combattere quindi non fu funzionale neanche alla campagna militare gli storici che si sono interrogati sulle cause della vittoria degli alleati uno in particolare si chiama Richard Overy che ha scritto un libro proprio perché gli alleati vinsero si chiama credo la strada della vittoria hanno elencato diversi fattori decisivi intanto ritrovati tecnologici il radar in primo luogo che fu usato prima e meglio dagli alleati che non dalle potenze dell'asse la capacità di decifrare i codici avversari operazione ultra così veniva chiamata che fu decisiva in molti casi nel senso che spesso quando le potenze dell'asse si muovevano gli alleati sapevano quali sarebbero state le loro le loro mosse questo potrebbe essere un fattore decisivo e tanti altri i convogli per scortare le navi che portavano merci per evitare il blocco tedesco e per limitare la guerra sottomarina anche quello fu un esperiente diciamo così molto efficace ma altri altri possono essere i motivi un motivo che è stato per esempio indicato è la superiore capacità questo anche potrebbe stupire la superiore capacità degli alleati di riorganizzare l'economia come economia di guerra ovvero di costruire quantità crescenti e prima impensabili di navi aerei cannoni e soprattutto carri armati direi soprattutto aerei perché questo poi fu alla fine il fattore decisivo i russi spostarono tutte le produzioni principali proprio spostando materialmente gli impianti al di là degli urali gli americani non avevano questo problema perché non erano raggiungibili dalle forze avversarie non c'erano i bombardieri capaci di attraversare l'intero oceano atlantico bene questa questo fu probabilmente il fattore decisivo uno dei fattori decisivi perché dico che questa cosa può stupire perché noi ci immaginiamo che la Germania nazista fosse una macchina che funzionava tutta orientata verso la guerra come in parte era stato durante la prima guerra mondiale nella Germania imperiale bene non era esattamente così Hitler proprio pensando a quello che era successo alla fine della prima guerra mondiale quando i tedeschi si erano ridotti alla fame mondiale e la resistenza interna in qualche modo si era incrinata nell'ultimissima fase della prima guerra mondiale pensando Hitler Hitler evita di sottoporre il paese a un'economia di guerra con tutti i suoi sacrifici e le sue restrizioni cerca di assicurare ai tedeschi un tenore di vita più che dignitoso in tempo di guerra l'economia di guerra la fa ma non in Germania la fa in tutti i territori occupati dalle truppe tedesche e lo fa in forme violente bestiali quasi schiavistiche e estraendo risorse fino allo stremo dai paesi che ha occupato per la Germania fino a tutto il 1944 quell'economia di guerra non c'è in questo senso è vero che gli alleati organizzarono le loro economie verso la produzione bellica in modo più efficiente di quanto non fece appunto la Germania nazista ecco quello che è certo è che per quanto riguarda il periodo fino alla fine della guerra nessuno ha potuto stabilire una qualche correlazione fra il tasso di crudeltà applicato nei confronti dei civili e le fortune militari non c'è si potrebbe addirittura azzardare che c'è una correlazione inversa pensando a quanto detto prima circa appunto l'avanzata i modi di far guerra sia dell'Unione Sovietica sia della Germania nazista tutto questo è vero fino all'agosto del 1945 è vero con una eccezione che è un'eccezione enorme capitale e cioè le due bombe atomiche di Hiroshima e di Nagasaki 6 e 9 agosto 1945 ecco qui non si può negare che quelle armi siano micidiali per la popolazione più di qualsiasi arma fosse mai stata prima sperimentata o concepita lo dicono le cifre che sono anche incerte ma sono spaventose poi non tengono conto di tutto quello che è successo dopo le conseguenze di lungo periodo eccetera quindi armi sicuramente distruttive come non era mai stata nessuna arma ma altrettanto sicuramente risolutive risolutive per capire anche perché per il motivo per cui furono poi sganciate quelle due bombe noi dobbiamo pensare che gli strateghi americani prevedevano che per completare l'invasione dell'arcipelago giapponese di tutti i territori che erano vastissimi che i giapponesi ancora occupavano in Cina in particolare non solo e poi nel Pacifico per portare a termine tutto questo sarebbe stato necessario ancora almeno un anno di guerra un altro anno di guerra e almeno un altro milione di morti a questo punto si può anche capire perché si decise di usare quelle armi anche perché le potenzialità di quelle armi le potenzialità catastrofiche diciamo di quelle armi erano in parte intuite in parte immaginate ma non erano mai ovviamente state sperimentate di bombe atomiche gli americani ne avevano tre la prima la fecero esplodere allo Salamos nel deserto quindi senza possibilità di vedere quali effetti avessero gli altri due esperimenti li fecero appunto sul Giappone con le conseguenze con le conseguenze che sappiamo ecco quello che è certo comunque è che con le due bombe atomiche non solo si chiude la guerra del Pacifico non solo si chiude la seconda guerra mondiale ma si chiude l'epoca delle guerre mondiali un'epoca forse delle più terribili della storia dell'umanità forse la più terribile per quello che possiamo sapere si chiude quell'epoca l'epoca come la possiamo definire l'epoca in cui le grandi potenze mondiali si fanno la guerra fra di loro usando tutti i mezzi che la scienza la tecnologia l'industria mettono a loro disposizione fino appunto all'arma ultima estrema che diventa talmente costosa e talmente inquietante per i suoi effetti che addirittura non viene più usata non verrà mai più usata ecco con l'agosto del 1945 comincia comincia un'altra epoca un'epoca che noi invece conosciamo bene l'epoca a meno quelli della mia età l'epoca del bipolarismo dell'equilibrio bloccato della guerra fredda delle due superpotenze che si fronteggiano senza mai combattersi che non esclude che poi le guerre si facciano in altre parti e siano anche magari molto molto cruente con l'agosto del 1945 comincia appunto un'altra epoca comincia la seconda parte del secolo breve il secolo breve 14 89 91 si divide a sua volta in due parti 14 45 e 45 89 91 comincia appunto questa seconda parte del secolo breve e lunga mezzo secolo appunto l'epoca del condominio bipolare e della guerra fredda l'epoca dominata dall'incubo nucleare ma anche l'epoca che ci ha regalato possiamo pur dirlo il più lungo periodo di pace della storia europea anche quell'epoca si è conclusa ormai circa 25 anni fa e guardando a quello che succede oggi possiamo solo sperare di non doverla rimpiangere troppo e di questo però parlerete nelle prossime nelle prossime lezioni di questa serie che appunto avranno come oggetto le guerre del nostro tempo vi ringrazio grazie 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 per questa efficacissima lezione abbiamo ancora qualche minuto per qualche domanda sede al pubblico c'è qualche intervento eccone uno buonasera a tutti salve professore una domanda molto veloce rispetto all'evento Hiroshima Nagasaki bomba atomica ho sentito anche l'ipotesi che oltre a voler evitare bagni di sangue per diciamo i contendenti soprattutto gli americani un altro motivo fosse quello di dare una dimostrazione di forza all'URSS secondo lei invece prevale il primo motivo ci sono tutte e due un suo parere su questo grazie ma secondo me nulla esclude che possono esserci tutti e due però quello primario era il quello principale era il primo cioè sì dare una forte un avviso all'URSS nel momento in cui ricordiamo che intanto era morto Roosevelt stavano cominciando a delineare le incrinature nella grande alleanza quindi anche quello scopo poteva essere uno scopo significativo però pensando a quanto era stata difficile costosa cruenta la guerra nel Pacifico metà più o meno delle perdite americane furono nel Pacifico e non in Europa pensando a quello l'idea di poter dare un taglio a quella guerra costosa sporca faticosa impegnosa segnativa per tanti aspetti bastava di per sé secondo me a dare un movente efficace a questa decisione pure carica di significati e insomma diciamo una decisione che non immagino sia stata presa alla leggera però appunto come dicevo prima le potenzialità dell'atomica non erano conosciute appieno altre domande arriva il microfono mi domandavo se non ci fosse una sorta di continuità tra quelle che la crisi che stiamo vivendo adesso ovviamente senza morti grazie a Dio ma con delle ripercussioni economiche notevole e se non ci fosse ancora un baricentro europeo è una suddivisione di forze in qualche maniera riconducibile alle crisi di cui lei ha parlato grazie ma è ovvio che parliamo di storia d'Europa e appunto come dicevo i protagonisti sono spesso gli stessi non sempre che qualche filo di continuità e qualche analogia si può trovare ma credo e spero di poter credere anche in futuro che certe dinamiche non solo nelle dinamiche belliche ma anche certe dinamiche della grande crisi degli anni 30 siano uniche e irripetibili dirà che sono ottimista però quando noi ci lamentiamo e giustamente degli effetti di questa crisi che stiamo vivendo parlo di crisi economica naturalmente non dobbiamo dimenticare gli scenari della prima e forse vera grande crisi quella appunto degli anni 30 non dobbiamo dimenticare le scene che abbiamo letto visto in furore di Steinbeck per esempio visto nel film cioè carovane di diseredati che attraversano il continente parliamo degli Stati Uniti non parliamo di zone periferiche o parliamo della Germania appunto che attraverso nel loro paese alla ricerca di un qualsiasi lavoro e in una fase in cui appunto gli ammortizzatori sociali e il welfare erano ancora a uno stadio molto 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 primitivo ecco io penso che quella roba là che quel tipo di crisi non la non la rivivremo e men che meno crisi internazionali così devastanti da portare a quel tipo di conflitti il guaio è che i conflitti del nostro tempo ci sono sono per certi aspetti altrettanto inquietanti appunto guardiamo quello che succede in questo momento ma sono diversi sono un'altra cosa e come sempre come al solito noi non li avevamo previsti anche le guerre mondiali sì c'era una certa letteratura catastrofica che illustrava le conseguenze tragiche di un possibile conflitto generale ma i più non la pensavano o la pensavano o le pensavano queste guerre simili a quelle del passato si combatte la prima guerra mondiale pensando alle guerre dell'ottocento si è combattuta la seconda guerra mondiale soprattutto in alcuni fronti pensando alla prima quindi per carità non siamo al sicuro da nulla ma per una questione credo di probabilità non risuccederanno ecco le cose che sono già successe ne succederanno altre speriamo non peggiori grazie c'era un'altra mano una domanda due poi basta stiamo approfittando prego c'erano due in quel settore anche di qua velocissimo non lo so fate voi velocissimo lei ha giustamente sottolineato la centralità della responsabilità della Germania per lo scoppio della guerra però non ha diciamo mi è sfuggito ho citato il patto Molotov-Ribbentrop e volevo sapere se dal suo punto di vista diciamo ci sono anche delle responsabilità in questo senso da parte dell'Unione Sovietica anche in relazione al pericolo del comunismo in Europa Occidentale grazie rispondo subito una citazione rapida l'ho fatta del patto Molotov-Ribbentrop quando ho detto che all'inizio della guerra l'Unione Sovietica è di fatto alleata della Germania nazista diciamo diciamo che se facciamo un elenco delle responsabilità dopo quelle della Germania nazista quello che viene per primo è sicuramente l'Unione Sovietica poi è stato detto cioè è stato accreditato ai sovietici una un progetto di lungo periodo noi intanto prendiamo tempo così ci rafforziamo e poi li facciamo neri che questo progetto esistesse è assolutamente incerto ancora nel 1940 nell'autunno del 40 Molotov e non Ribbentrop in quel caso ma non so quale altro potenziario nazista trattavano per la spartizione del mondo comprese le colonie inglesi eccetera quindi le responsabilità ci sono ci sono sicuramente poi però c'è stato l'attacco all'Unione Sovietica e quindi nello schema che si è creato nello schieramento che si è creato si è creata la grande coalizione antifascista con l'Unione Sovietica dentro la grande coalizione antifascista questo naturalmente ha spostato no? ha spostato gli accenti ha spostato anche le prospettive per cui oggi noi parliamo dell'Unione Sovietica per quello che ha fatto anche suo malgrado nella seconda parte della guerra e non per quello che ha fatto o non ha fatto nella prima parte della guerra quando appunto non solo lasciò che i tedeschi invadessero la Polonia ma si spartì in zona di influenza buona parte dell'Europa orientale ancora una sì dunque sì non è che hanno favorito certo c'è qualcosa di vero ora non è che favorirono il riarmo della Germania quando c'è un riarmo quando un paese si arma va a comprarsi le armi dove le trova che ci siano delle responsabilità è possibile ma attenzione mettere l'accento sull'industria degli armamenti in questo come in cento altri casi è una procedura che non mi convince perché significa pensare che le armi sparino da sole le armi non sparano da sole le armi le fanno sparare gli uomini allora il problema è quello una volta che le guerre scoppiano poi le armi si trovano sempre il problema è di non fare scoppiare le guerre ma guardi io so l'Occidente ha delle gravi colpe ma dunque allora per creare i genocidi secondo lei dunque allora io guardi mi documenterò su questa cosa ma il grosso il 90% e più del riarmo tedesco è avvenuto in Germania è servito a rilanciare l'industria tedesca a dare lavoro all'industria tedesca a fare lavorare i tedeschi questa che abbiano comprato armamenti anche altrove è fatale succede sempre ma dire che la colpa è di chi ha dato una piccola parte delle armi rispetto a chi quelle armi le ha fabbricate usate per scopi omicidi e criminali beh questo mi sembra francamente un passaggio eccessivo bene direi quanto possiamo approfittare alle 7 chiudiamo va bene ancora non so l'ordine però una da questa parte professore volevo anche in primo luogo complimentarmi per questa grande visione che ci ha dato di tutta questa vicenda grazie e volevo passare un momento all'aspetto più interno italiano e quindi le volevo chiedere tralasciando gli aspetti morali secondo lei l'ingresso in guerra dell'Italia al momento in cui avvenne strategicamente fu una cosa veramente insensata o aveva delle ragioni diciamo così proprie attendibili le rispondo subito non fu insensata nel senso che se come molti allora pensavano in Europa la guerra nel giugno del 1940 era finita molti lo pensavano chi avrebbe pensato che la Gran Bretagna da sola potesse resistere per tanto tempo e addirittura poi trovare alleati e vincere la guerra allora in quella circostanza non era insensato pensare che tanto la guerra la Germania aveva già vinta e quindi poteva essere conveniente schierarsi al suo fianco era moralmente ripugnante questo sì è un'altra cosa era moralmente ripugnante perché la Francia era stata appena sconfitta stava praticamente trattando l'armistizio e l'idea di subire un attacco in quelle condizioni diciamo è una cosa che fa indignare anche oggi a pensarci fu una delle più grandi vergogni forse la più grande della storia nazionale però non fu insensata professore buonasera sì volevo solo chiedere questo noi stiamo adesso forse incrociando un po' il piano etico e quello militare però rimanendo su questa possibilità di lettura del secondo conflitto mondiale allora lei ci ha detto le due armi atomiche le due bombe atomiche sono state distruttive ma risolutive ma rimanendo sul piano della contabilità macabra dei morti che ci sarebbero potuti essere se non fossero state utilizzate queste armi ecco un milione di morti a fronte di 60 milioni che poi è il bilancio complessivo dei morti della seconda guerra mondiale e un anno di guerra a fronte dei sei anni quindi già di una guerra di lunga durata non sono diciamo numeri troppo bassi per giustificare anche sul piano etico l'uso della bomba atomica ma anche rimanendo solo sul piano dei numeri no sul sul piano dei numeri secondo me invece perché attenzione i morti di Hiroshima e Nagasaki furono nell'ordine delle centinaia di migliaia credo in tutto sui meno di 400 mila che anche è una cosa enorme per carità però non arriviamo al milione presunto di morti di una guerra che sarebbe stata combattuta su uno scacchiere molto ampio su un teatro molto ampio e che avrebbe appunto richiesto tempo risorse e comunque questa questa contabilità non la possiamo fare noi oggi bisogna anche pensare a quelli che erano responsabili dei loro paesi che dovevano assumersi la responsabilità di mandare a morire qualche altro centinaio di migliaia di loro connazionali in una democrazia tra l'altro che significa che dovevano essere eletti cioè non è che potevano fare quello che volevano e quindi anche da questo punto di vista il calcolo non so dire io francamente se sia giusto tollerabile o meno però è comprensibile quanto meno è comprensibile bene grazie 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 grazie